Ci rincontriamo finalmente Sei veramente potente, hai imparato molto, Giovanotto Ma io non ci vengo, devo tornare a casa, va Il tuo destino è con lei Non posso essere coinvolto Ho del lavoro da fare Non pensare che mi piace l'impero, anzi lo detesto Ma non ci posso fare niente in questo momento Ed è lontanissimo da qui Tu non te ne hai ancora conto della tua importanza Se tu solo conoscessi il potere, è nato la sua nonna Cerca dentro di te, tu sarai incredibile Io sono tua sorella Non lo vedo, non lo vedo, non lo vedo Non lo vedo, non lo vedo Sorella gemella No Unisciti a me Non l'ho mai con te Consegnati al lato oscuro della forza È l'unico modo che hai per salvare i tuoi amici. Sì, i tuoi pensieri ti tradiscono, i tuoi sentimenti per loro sono forti. Se tu non passerai al lato oscuro, forse lei lo farà. Vedo che hai fabbricato una nuova spada laser. Non che nemmeno prendo tutte le puoi, ma non è una nuova spada. Ma non, non ci sono! La versione è stata molto tui, ma non è un luogo. La versione è stata molto più per l'alto, ma non è un luogo. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.